Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. Whites e eccoci qui con un nuovo episodio delle squadre divertenti da utilizzare. Oggi ho deciso di portarvi un 3-5-2 della Major League Soccer, campionato americano molto sottovalutato online. Iniziamo subito dal portiere, Carlo Cudicini. Vecchia conoscenza del calcio inglese, Cudicini è un ottimo portiere a mio parere. Soffre, come tutti i portieri argento, contro gli attaccanti oro, quindi attenzione quando affronterete team oro. Passando alla difesa, primo difensore Marvel Win. Prima cosa che notiamo, 93 di velocità che lo rendono il difensore centrale più veloce del gioco. Il problema di questo giocatore è che è poco altro oltre la velocità, quindi non è un gran che in difesa. Altro difensore, Jameson Olave. Questo è un giocatore veramente completo. Non è infatti così lento in base a 75 di velocità, ma ha un ottimo colpo di testa e un ottimo valore difensivo. Davvero consigliato. Il terzo della linea in difensiva è Ike Upara. È bronzo, ma è molto veloce, ha dei buoni valori di testa, essendo anche alto 1,88 m. Lascia veramente desiderare per quanto riguarda tiro, passaggi e drippling, ma dal difensore possiamo accettarlo. Passando al centro campo, il primo esterno a destra è Danny Richard. Giamaicano, molto veloce, 94, quindi un fulmine sulla fascia, ha la tendenza ad accentrarsi come l'altro esterno, quindi io vi consiglio di usarlo o lanciandolo sul fondo, quindi usando molto la tattica del contropiede, oppure magari per accentrarsi, per un gioco più ragionato. L'esterno a sinistra è Steve Zacquani, 87 di velocità, quindi comunque non così veloce, ma comunque ottimi valori base. Un buon drippling, pecca leggermente in fase difensiva, ho scelto due esterni molto offensivi, quindi state attenti che sulle fasce potreste essere scoperti. Passando ai due cdc, il primo è Rick Balcam, 64, un bronzo, quindi 84 di velocità, buoni valori difensivi, 66, che comunque per un bronzo non sono male, riesce comunque a comportarsi egregiamente in fase difensiva. Il suo compagno è Osvaldo Alonso, questa volta oro, un giocatore davvero eccezionale, costa pochissimo, 850 crediti, ma davvero, davvero forte. 4 stelle pide debole, anche buon valore di tiro, non lasciatevi ingannare, da 61, ottimi valori difensivi e offensivi, quindi. COC, Landon Donovan nella sua versione Team of the Season Most Consistent, costa parecchio, 65.000 crediti, se non potete permettervelo, prendete tranquillamente uno tra Beckham o Giulinio, sono fortissimi anche loro. Donovan l'ho scelto perché per me è un COC pazzesco, 90 di velocità, 82 di tiro, quindi un giocatore sia veloce ma che comunque riesce a tirare e riesce anche a mettere davanti gli attaccanti davanti alla porta. Attaccanti, Dominico Dura il primo, 94 di velocità, un giocatore adattissimo per il gioco in velocità, infatti basterà lanciarlo e salterà con facilità tutti i difensori e avversari, davvero consigliato. Darren Mattox completa il reparto offensivo, anche lui velocissimo, 92 di velocità, 1,83 m, ma ha pazzeschi valori di elevazione, infatti ho segnato spesso gol di testa con questo giocatore, quindi una coppia di attaccanti adattissima per il gioco in velocità e comunque anche per il gioco fisico. Punti di forza di questa squadra? La velocità prima di tutto, che questo è il suo vero punto di forza, infatti in ogni reparto avete giocatori velocissimi e questo è molto utile soprattutto se giocate tanto online in Divisione 1 in Ultimate Team, infatti questa per me è una squadra con cui potrete vincere tranquillamente la Divisione 1 online perché è davvero completa in ogni reparto. Per di più è unica, non ce l'ha praticamente nessuno, quindi vi divertirete sicuramente con giocatori che magari non conoscete. Altro punto di forza, il costo, non è altissimo se escludiamo i difensori e Donovan, difensori sono indispensabili quindi dovete spendere per quello, per Donovan come vi ho detto potete tranquillamente usare Juninho o Beckham nelle sue versioni basi. Non mi piace di questa squadra gli skiller, non c'è nessuno skiller, quindi solo 4 stelle skill il massimo e il portiere che non è il top contro le squadre oro, questo però è comune a tutti i portieri argento che soffrono molto i tiri da distanza all'incrocio che difficilmente riusciranno a parare. Se siete dei nostalgici potete tranquillamente usare Divaio in attacco che è davvero forte e Nesta in difesa. Bene ragazzi, con oggi abbiamo concluso, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Noi ci vedremo presto con un altro episodio delle scuole divertenti da utilizzare. Ciao a tutti!